Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siamo qui con lo showcase di Renettuno livello 80 in challenge Ma come con Odi ci basterà per vedere comunque se questo PG ha delle qualità o meno Allora, io tra l'altro questi showcase li vedo per la prima volta insieme a voi, quindi li commenteremo proprio letteralmente insieme E non so, per quanto mi riguarda non è un PG chissà che cosa Nettuno Sicuramente le cose interessanti, quella skill roteante, bella e tutto Però chiaramente ragazzi un personaggio come Nettuno non lo vedrete in league Perché c'è già un personaggio poco amato, poi Nettuno secondo me già tanto se ne troverete Ma veramente tantissimo Comunque, comunque, a noi questo non ci interessa, noi dobbiamo giudicare lo showcase del personaggio Qua, giustamente da defender, si rifulla la bandiera Però sicuramente tra i due merita di più Odi Su quello non c'è proprio dubbio Però comunque c'ha le sue riduzioni del tuno, cioè non è che fa schifo, assolutamente Eh, questa skill qua è buona Contro i fruttati poi, eh, questa skill è tanta roba Ok Vabbè Adesso creo che gli spari la skill 1 La skill 1 non me la ricordo manco Eh, con questa qua Ah, perché letteralmente è la camea, ma è letteralmente No, ma le skill sono buone, eh Le skill sono assolutamente buone Ok, ok, qua il congenente del Brook se l'è pigliato, giustamente Oh, no, peccato, non è partita la skill Eh, in questo caso sarebbe stato molto utile quella skill Perché c'è il ciccondo da tre avversari Quindi sicuramente avrebbe avuto il suo perché Qua spara la, cioè letteralmente la camea Ma non sembra malvagio, eh Dopotutto, dopo tutto, non sembra poi così malvagio, Nettuno Non top defender, eh Top defender ce ne vuole Però ci sta, ci sta Ok, qua scagliato Ok, bene, bene, bene Qua adesso, eh, beh, qua ci sta Eh, no, vedi, quando è circondato e si tira questa skill È tanta roba È tanta roba questa Buono Qua Doffi Ripeto Ok Vorrei vedere che il raggio lungo ha la camea Perché da lì sicuramente lo prenderebbe Sì, beh, qua, ovvio Però sarebbe bello constatare quanto lungo va Ma magari se voi lo avete Me lo dite qua sotto nei commenti Seconda skill direi abbastanza No, 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 questa seconda skill è tanta roba Questa sì, eh, sì Ma lei non... Onestamente mi aspettavo di vedere peggio da questo PG Onestamente Onestamente Però dai, vabbè Ci sta assolutamente accettabile Cioè, meglio di Judge per dire Sicuramente Sicuramente meglio di Judge Eh, qua Zoro Qua Zoro Se avrebbe appigliato in pieno Mi sa che l'avrebbe sottato Eh, sì Seconda skill Vabbè Sì, per il primo match Dai, vediamo anche l'altro Voi direi che siamo a posto Ma come PG è promosso, eh Come PG è promosso Pensavo molto peggio Pensavo molto peggio Pensavo molto, molto Perché neanche su YouTube Non ho visto nulla di questo persaggio Ho visto solo il video preview E i tratti E basta Ok Qua nella mappa Mi lasciamo Uh Vabbè Qua è stato bravo il player A adoggiare Buono, buono Eh, no, no Sto secondo skill È tanta roba, eh Oh Nettuno, raga Portate rispetto per Nettuno Il re Nettuno Ok Skill 1 Godobidmon Vai più lontano possibile Eh, vedi Eh Qua Kaido l'ha messo in difficoltà Con il cover block Eh, vabbè Ci sta, ci sta Però ci sta Beh, qua se li ha spinti via Buono, buono, buono Ok Bravo Nettuno Bravo, bravo Nettuno Bravo Nettuno Giocatore sontuoso Oeres Giocatore sontuoso Ecco qua GG Ah, non ho rubato quella bandiera No, però vabbè Lui deve Ok Caramellizzato da Perosperino Però, però, però Team boost GG Vediamo se sopravviva Perospero È un po' dura È un po' dura Però aveva il team boost Perché altrimenti Credo che Perospero L'avrebbe saltato Vabbè Vabbè Ci sta Non è il defender Della vita Ovviamente Vai Skid 1 Però neanche Neanche così malvagio Sicuramente Mi aspettavo peggio Mi aspettavo veramente Molto peggio Beh, che dire signori Manca un minuto Alla fine del match Io spero che il video Vi ci sia piaciuto Vi torna a lasciare un like Iscrivervi al canale Attivare la campanella Delle notifiche Per non perdervi Nessun video Iscrivetemi sotto voi Nei commenti Cosa ne pensate Del buon Nettuno Vi ripeto Come PG È sicuramente promosso Credo che scenderà in fretta Dalla tier list Credo di sì Però comunque Ripeto Non fa neanche così tanto schifo Assolutamente no Assolutamente no Signori Noi ci vediamo Con il prossimo video Vi lascio La buona visione Al termine della partita Ciao Alla prossima Alla prossima Grazie.